Allora, sono qua con la Microsoft Whiteboard e ho i miei, come si dice, come si può chiamarli, non lo so, i miei fogli, ok, dunque qua i fogli, quando sono questi qua, ipotizziamo che sia già fatto, modificato 14, 52, ah, però vediamo con che, ok, sono con pennino e con mano, ok, dunque questi sono già fatti, questi qua in giallo, e dunque posso andare a tipo esportarlo, vediamo se appare qualcosa, non appare niente, bisogna entrare, vabbè, esportare e salvare in PNG, ah, ok, dunque potrei salvarlo in PNG, o se no, clicco sempre qui e vado a eliminare, ok, invia partecipanti, anche elimina, e dunque invece se faccio qua, invia partecipanti, crea un collegamento, collegamento di condivisione web disattivato, crea un collegamento, questa lavagna attiva la condivisione di collegamento web per creare un URL, che punta a questa lavagna, che può essere condivisa tra account personali o dell'organizzazione dello stesso tenant, copia e incolla il collegamento, un messaggio di posta elettronica, una chiamata Skype, una chiamata Team, o un messaggio di chat per invitare altri utenti, dunque questo bisogna poi usarlo con Team naturalmente, bisogna vedere anche se si può usare con Classroom, ma vabbè, però per adesso no, e, ehm, però adesso dove sono? Perché mi fa questo? Ah, sono bloccato però, eh, eh, sono bloccato, account, chiudi, e qui io come mai? Vediamo col pennino se riesco, no, non riesco a fare niente, sono bloccato, cosa ho fatto, cosa ho fatto, e non riesco più a uscire, ah, ah, qua è una bella cosa, perché è come se ho un highlight questo, ma non riesco a uscire, vabbè, niente, non so come mai, non riesco a uscire, vediamo di chiudere questo, chiudo, ok, chiudo, eh, riprovo schiacciando qua, whiteboard, ok, adesso sono, chissà perché si è, si è bloccato così, eh, e dunque vado a cancellarla, ah, però entriamo un attimo, entriamo in questa lavagna qua, ipotizziamo che voglio andare, ah, qualcosa non posso farlo, devo farlo col pennino, perché è settato, dunque, se faccio, però ho questa scrittura qui, dunque posso andare, se voglio cancellare tutto in un colpo, vado qui, ok, e faccio, cancella l'area di disegno, così mi ha cancellato tutto, e poi su questo è comodo, perché, penna attiva, converti in forma, input penna in tabella, e qua devo vedere che cosa sia, blocco oggetti, esporta, vabbè, è il solito, PNG o alta qualità, SVG, schiaccio qua, formato sfondo, ok, posso scegliere i vari sfondi, ok, appunto, vabbè, ok, sfondo, e posizione della barba strumenti, non mi interessa, verifica accessibilità, vediamo, ma mi sa che questo, verifica accessibilità, non lo so, devo andare a vedere, vabbè, ok, adesso, ecco, volevo fare una cosa con questo, dunque, input penna in tabella, e volevo vedere che cosa è, vediamo, poi, vabbè, questo è il mio, la mia email, e questo, crea collegamento di condivisione, dunque, quello lì, crea collegamento di condivisione, ah, 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 vabbè, però, andiamo col pennino, sono col, sì, sì, sono col pennino, andiamo a disegnarmi, oh, è lui riconoscimento del cerchio, se invece vado qui, converti in forma, allora lui, non me lo, non me lo, non me lo, non me lo, non me lo riconosce, ok, dunque, faccio filmone, ok, se faccio, vado qui, poi, e converti in forma, e vediamo se la S, no, la S non la riconosce, dunque, anche converti, riconosce solo, riconosce solo le ricerchi, e probabilmente i quadrati, eccolo qua, carino, ok, 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 e l'altra cosa, volevo input penna in tabella, che roba, input penna in tabella, ma qua non riconosce niente, non so, devo andare a vedere cosa sia input penna, uno, due, tre, niente, no, questo non lo so, devo guardare cosa significa, cosa significhi, input penna in tabella, ok, qua, cancellare a disegno, dunque, voglio cancellare tutto, ok, e la cosa che, andiamo a vedere, qua, vabbè, torno indietro, vado avanti e torno indietro, ok, vabbè, classico, qua, più uno, cioè, apri nuovo, giusto, no, no, griglia, no, anteprima, elenco, elenco, attività di completamento, modello, pdf, documento, word, ah, per inserire dentro, vabbè, si va a cercare per inserire dentro, dunque posso inserire dentro oggetti, qua lo potrò inserire dentro immagini, sì, perfetto, digita qui, ecco, questo, ah, questo è lo stick, giusto, aggiungi nota, sì, lo stick, la nota, ah, eccolo qui, menu immagine, menu inserisci, ok, aggiungi nota, aggiungi testo, seleziona con lazzo, righello, poi vado qui, gomma, evidenziatore, penna di colore, galassia, arcobaleno, verde, vabbè, dopo uno può anche cambiare i colori, e digita qui, e se faccio col penna, sì, posso digitare con la penna, ok, e qui posso cancellarlo, taglia, colore, posso andare a, e poi, non posso spostarlo, posso allargarlo, posso spostarlo, lo posso mettere qua, eh, ok, ok, però quello che mi interessava, mi interessa è questo, digita qui, dunque, io posso digitare con la, con la keyboard, ma posso digitare anche con la penna, però sono due cose diverse, naturalmente, perché se vado a cliccare qui, ecco, questo è diverso, lo sposto qua, e posso cancellarlo, mentre, e questo, ok, lo sposto, e questo cos'è, eh, mi piace, modifica testo, seleziona colore testo, copia, elimina altro, taglia, testo alternativo, che sarà il font, a testo alternativo, aggiungi una descrizione del contenuto per l'utilità per la lettura dello schermo, no, questo, ah, tipo una nota, contenuto per l'utilità per la lettura dello schermo, eh, vabbè, adesso questo io lo posso portare dove voglio, con la mano, però io avevo visto un'altra cosa che mi, che mi sembrava molto interessante, che c'era un qualcosa qui, no, c'era una cosa che adesso non riesco più a far apparire, questo che dovrei, seleziona tutto il testo, incolla, però non volevo, tenendo premuto col tasto, che strano, allora, aggiungi nota, aggiungi testo, clicco qui, oh, eccolo qui, cliccando con, con la mia pennina ho avuto, oh, la cable, o si può anche, c'è riconoscimento, vocale, dunque, clicco qua, suggerimento, pronuncia, seleziona tutto, ciao, come stai? Eh, bellissimo, ah, 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 eh, riconosce anche la risata, perfetto, bellissimo, pronuncia virgola, ah, 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 virgola, e fa la virgola, punto, e fa il punto, vedete che lo sposto, elimina, 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 non puoi eliminare, e finisce la dittatura, eh, suggerimenti per la modifica, e qui, eh, ok, ah, eliminare, non puoi eliminare, eh, è comodo, ecco, anche il riconoscimento, eh, non riuscivo più, dunque, clicco qui per uscire, voglio fare un'altra nota, clicco qui, però io qui non riesco a farlo, devo andare a fare la nota qui, che col pennino mi arriva il, adesso chiudo, adesso vado a settare, chiudo qui, vado a settare il video solo con, senza il pennino, vediamo se mi fa la notte, il testo, e non riesco, col pennino me lo fa, che storie, è meglio col pennino, perché ho quella opzione lì, e qui non ce l'ho, invece se vado a fare col pennino, ah, ho sbagliato, devo riaccendere, devo riaccendere, ho sbagliato perché ho, ho toccato, ok, eh, dunque se vado a settarmi qua, col pennino, allora sì, eccolo qua, poi faccio con la mano, col pennino, me lo prende anche col pennino? sì, ecco la mano, inizializzazione, e posso dettare, questo è comodo, questo è comodo, molto comodo, però mi sa che lo fa anche Word, 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 no, Word, ah, Word, ecco hai capito, ok, vabbè, spero di, però ecco ci vuole, è molto comodo col pennino, col pennino e poi, qua cosa è successo, e poi, uno, ah, è nata via, uno poi registra, ah, mi si è cancellato tutto, uff, 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 no, no, era qui modificato, e dove? ah, eccolo qua, eccolo qua, ci vorrebbe però lo zoom tutto, c'è lo zoom tutto, devo vedere, eh, bisognerebbe provare, nel senso, lavorarci, se uno ci lavora, vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.